Dei problemi burocratici sarebbero la causa del ritardo nei lavori che coinvolgeranno sia la Villa Cordova che la Villa Medeo, così come spiega l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone, che risponde a seguito delle segnalazioni degli ultimi giorni sulle condizioni in cui versano i servizi igienici della villa presente in centro storico. Purtroppo per motivi di natura burocratica ci sono stati dei ritardi sull'inizio dei lavori. Il bando è già stato effettuato, è stata data l'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, per cui siamo pronti per iniziare i lavori. Non appena questi intoppi burocratici saranno risolti immediatamente partiranno i lavori che sistemeranno le due ville, quindi sia la Villa Medeo sia la Villa Cordova e in particolare i servizi igienici che sono effettivamente in uno stato disastroso e hanno una necessità urgente di essere immediatamente sistemati, così come anche le fontane. Non ci sono delle tempistiche, quindi certo. Io mi auguro che tutto possa essere risolto. Siamo ormai agli sgoccioli per questa problematica. Io mi auguro e spero vivamente che gli uffici facciano di tutto perché i lavori possano partire entro questo mese. Non c'è possibilità di effettuare degli interventi tampone intanto? Gli interventi tampone possono essere effettuati dove ci sono delle emergenze molto più limitate. Qui l'intervento tampone sarebbe sistemare il bagno, ma l'appalto prevede specificatamente questa cosa, quindi sarebbe un intervento che ripeterebbe quello che è previsto già nel bando. Saranno riprese le due aree giochi e anche la pavimentazione della Villa Medeo, la sistemazione del verde che si trova appunto nelle aiuole, gli alberi, quindi le piante che si trovano nelle due ville.